Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Filo Diretto, la trasmissione che Ornews.it sta dedicando all'emergenza Covid-19. Oggi parliamo di emergenza sanitaria e lo facciamo puntata tipica con due ospiti, un medico e un farmacista, per far capire alla gente come stanno vivendo in questi momenti i medici e i farmacisti che sono insomma coloro che in prima linea si danno da fare per cercare di arginare appunto il contagio. Diamo il benvenuto a Enrico Cuozzo, cardiologo di Oristano. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno a tutti. E a Luigi Annis, farmacista titolare di farmacia San Veromilis. Buongiorno Luigi. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, partiamo con lei, dottor Cuozzo. Come stanno vivendo i medici, come lei, insomma, quindi titolari di strutture private in questo momento, da quando è partita la pandemia e quindi di conseguenza all'emergenza sanitaria? Ma per quanto ci riguarda, ovviamente la struttura dove lavoro io, una struttura convenzionata o meglio una struttura pubblica a gestione privata e quindi su indicazione della regione ci siamo adeguati cercando di annullare o meglio di rinviare le visite non urgenti e ci siamo concentrati prevalentemente a quei pazienti che avevano una necessità più urgente di essere visitati, in questo caso in ambito cardiologico. Abbiamo cercato di diminuire l'accesso allo studio, alla struttura, cercando appunto di far entrare i pazienti pochi per volta, come indicato dalla regione, evitando i raggruppamenti ed evitando anche l'accesso agli accompagnatori. Per quanto riguarda noi, noi ci siamo autodottati di dispositivi di protezione, quindi mascherine, occhialini, guanti e abbiamo cercato di mantenere praticamente le regole disposte dalla regione e anche dal ministero. Su questi dettagli torneremo fra poco. I farmacisti invece come vivono questo momento? Avete delle indicazioni dall'ordine o comunque almeno in prima istanza, quindi un mese, un mese e mezzo fa, avete dovuto fare da voi? Beh, noi abbiamo avuto continue disposizioni tutti i giorni, dai primi di marzo, da quando è esplosa la pandemia e quando ha toccato anche ovviamente le nostre zone, tutti i giorni delle continue comunicazioni di adeguamento delle misure di sicurezza da adottare. Abbiamo provveduto puntualmente ad applicarle, come ad esempio disporre l'ingresso di al massimo due pazienti per volta in farmacia, cercare di dotare la struttura, la farmacia di misure di sicurezza, come dei pannelli di plexiglass che ovviamente sono delle barriere che permettono di lavorare in sicurezza. In una situazione di panico, di instabilità, questo ci dà molta sicurezza appunto. Non so, guanti in lattice, gel disinfettanti per le mani messi a disposizione dei clienti, anche se in effetti nel mercato all'inizio, soprattutto nella prima fase di marzo, è stato complicato recuperare questo tipo di prodotti e di dispositivi di protezione. Abbiamo avuto delle mascherine in primis. Sì, vabbè, io almeno di mio ho dovuto provvedere all'acquisto di questi pannelli di plexiglass che però adesso pare che siano anche fortemente suggeriti, se non obbligatori. Adesso non ricordo bene le ultime direttive, io le ho installate già un mesetto fa. Niente, poi le mascherine, le mascherine sono diventate un oggetto di culto perché sono sempre state difficilmente reperibili a condizioni economiche e commerciali, anche direi quasi da sciacallaggio. Io stesso ne sono stato vittima in quanto comunque ho accettato delle proposte commerciali con pagamenti anticipati che non sono nemmeno mai arrivate. Quindi comunque anche nel mercato si è creata molta complessità. La pagina è triste, è una delle pagine tristi di questa emergenza. Dottor Cozzo, di quanto sono calate le visite nel suo studio e in generale negli studi privati? Poi le volevo chiedere, sono calate un po' per sua scelta e quindi nel rispetto appunto di quello che lei diceva prima, prendere solo le urgenze o anche comunque per il fatto che anche la gente ha paura di muoversi e quindi di andare anche in uno studio privato? Ma allora, le visite sono calate, un po' perché l'abbiamo voluto noi e perché c'è stato imposto, un po' perché giustamente e un po' perché i pazienti avevano comunque il timore e il terrore di andare in strutture sia pubbliche che private, comunque sanitarie, dove si è visto che erano spesso fonte di contagio, l'abbiamo visto anche dai media nazionali, in base anche a quello che è successo prevalentemente in regione Lombardia. Il calo che c'è stato, diciamo che è stato del 90% circa, questo si è verificato sia in ambito territoriale che in ambito ospedaliero. Esiste uno studio della Società Italiana di Cardiologia che è stato anche, l'abbiamo letto tutti, anche su Repubblica, è stato pubblicato anche su Repubblica, dove si è visto che rispetto a una uguale settimana di marzo, nel marzo di quest'anno c'è stato anche un calo del 50% dei pazienti per esempio ricoverati per infarto miocardico e questo la dice lunga su quello che succederà nei prossimi mesi alla ripresa appunto del lavoro. Quindi insomma timore da parte dei medici ma anche da parte dei pazienti direi. In questo contesto io direi che è stato fatto un ottimo lavoro da parte dei medici di medicina generale che hanno fatto un ottimo filtro a livello territoriale e poi strutture come questa che hanno lavorato poco, ma quel poco che hanno lavorato erano prevalentemente pazienti con sintomi respiratori non inquadrabili come pazienti Covid, ma pazienti con scompenso cardiaco che in altre occasioni sarebbero dovuti accedere in strutture ospedaliere. A proposito di filtri, dottor Arnis, invece filtri da parte dei medici di medicina generale, immagino che lei soprattutto all'inizio invece abbia dovuto fare i conti con chi in farmacia si vecca senza avere una ricetta, magari preso dal panico per comprare chissà quali finali, per esempio una tachipirina. No, questo no, nel senso che c'è molta collaborazione con i medici di famiglia, si è creato una sorta di sistema a ponte tra noi e i pazienti, modo tale che venga garantita l'erogazione di tutti i farmaci essenziali e i medici ovviamente non ricevono più un ambulatorio se non per situazioni di estrema emergenza, ma è stato adottato dal ministero un sistema che prevede l'invio da parte del medico al paziente, all'utente di codici numerici che equivalgono alla cosiddetta ricetta dematerializzata, per cui il paziente, praticamente il medico spessissimo nemmeno lo incontra e si presenta in farmacia col cellulare, ci fornisce questi codici e noi siamo autorizzati poi a stampare qui la ricetta, quindi comunque si è tenuta un'ottima distanza di sicurezza tra medico-paziente e medico-farmacista per garantire che il sistema funzioni. Panico ce n'è stato all'inizio, molta confusione, telefono che squillava continuamente, richieste continue di informazioni che ovviamente siamo qui a dare. Le più curiose? Che aneddoto d'altro? No, vabbè, curiose no, più che altro le solite domande continue sulle mascherine che non si trovavano e veramente su 150 telefonate, 144 erano su richieste di mascherine. Sì, richieste di chiarimenti, ma panico in generale no, più che altro molta confusione. Molta confusione. Dottor Cuozzo, l'ordine dei medici in provincia di Oristano è stato molto duro nei confronti della ASL locale, soprattutto proprio perché, come diceva lei all'inizio, insomma avete dovuto fare un po' da voi per procurarvi dispositivi di protezione individuale? Adesso siete in qualche modo un po' più assistiti o la situazione è sempre difficile? L'ordine dei medici, pilotato dal presidente Antonio Sulis, ne faccio parte anch'io dell'ordine, è stato critico intanto perché Oristano è stata un po' diciamo così cenerentola rispetto alle altre province della Sardegna, anche se poi per fortuna le cose sembrerebbero andare abbastanza bene. Certo, c'è stata una carenza di dispositivi di protezione e l'ordine si è battuto prevalentemente per questo. Non dimentichiamo che l'ordine fa gli interessi dei propri iscritti e nell'oristanese non sono state fornite mascherine a nessuno. Io stesso mi sono lamentato per la nota diffusa dall'assessorato che ha disposto le mascherine che dovevano essere date ai medici e per esempio non ha considerato le strutture private come la mia che comunque garantivano le urgenze, per cui noi ce le siamo dovuti tutti quanti procurare, chi a destra e chi a sinistra, soprattutto grazie alle amicizie. Per esempio io stesso ho chiamato anche al dottor Hannis per approvvigionarmi di mascherine. L'ordine si è però anche lamentato del trasferimento dei quattro anestesisti da Oristano e anche questo è un fatto sul quale appunto il dottor Sulis ha cercato di fare così chiarezza. anche perché abbiamo visto che quando ci sono stati sei casi di sospetto Covid al pronto soccorso di Oristano, inaspettati, questi hanno creato più che un malumore. Per cui l'ordine ovviamente ha fatto il suo dovere e si è occupato appunto di proteggere i propri associati iscritti. Quando pensa di tornare a regime nel suo studio? Diciamo a regime più o meno normale e come pensa che si organizzerà? Ma io spero di tornare a lavorare in maniera importante al più presto perché se no si rischia di trovarci di fronte a degli scenari catastrofici. Intanto perché le liste d'attesa saranno lunghissime, già lo erano prima del coronavirus. Inoltre ci saranno dei pazienti che hanno delle problematiche che sono state trascurate per mesi perché erano già mesi in vista d'attesa per poter accedere alle strutture mediche, alle visi e alle prestazioni mediche e in più ci sarà, ci troveremo anche di fronte, qualcuno lo dice, a delle patologie trascurate e anche misconosciute. Cioè pazienti che hanno avuto dei problemi in casa e li hanno trascurati e se li sono ottenuti e se li sono gestiti da solo grazie comunque anche all'ausilio del medico di base che comunque ha fatto tanto in questa emergenza. Quindi niente, speriamo presto nella riapertura, speriamo che in ambito Covid ci sia la possibilità di utilizzare al più presto un vaccino di cui si sta parlando e niente, speriamo bene. Mi dà un altro assist, insomma, dottor Hannis, lei è un farmacista, quindi non produce direttamente vaccini, li commercializza, però per quella che è la sua piccola esperienza, quale potrebbero essere secondo lei i tempi di uscita di questo vaccino? Ma vabbè, io non sono nella posizione per poter dare una risposta di questo tipo, però per quanto mi sia documentato e per quanto ne so, le più ottimistiche aspettative prevedono una commercializzazione di un vaccino non prima di, parlano, 12-18 mesi, perché comunque la procedura è molto lunga, nonostante ci siano delle molecole al momento molto promettenti e che stanno già dando degli ottimi risultati, il vero problema è poi doverle testare, quindi i tempi per l'eventuale autorizzazione dell'emissione in commercio si dilatano molto, le migliori aspettative sarebbero, diciamo, entro l'anno, entro un anno. Perfetto, che consiglio? Ah, prego, dottor Quartz. Ma credo che in questo caso i tempi saranno più ristretti, già ieri sentivo in un programma televisivo che a fine mese si dovrebbero già iniziare a testare su alcuni pazienti selezionati il primo vaccino. Però tutte queste cose sono ancora tutte da valutare e da rivedere. Pare che ci sia una ditta israeliana, una ditta israeliana che sia molto avanti nella ricerca. Va bene, chiederei a entrambi di chiudere dando un consiglio utile, quindi ai suoi clienti, dottor Hannis e ai suoi pazienti, dottor Quartz, insomma, cosa fare in questo periodo? Partiamo da dottor Hannis, ai suoi clienti, che cosa dice? Beh, ai miei clienti dico, come ho sempre detto, di stare a casa, di rispettare le regole, di limitare gli accessi in farmacia alle situazioni di vera emergenza e di urgenza, cercare di uscire nello possibile di casa e rispettare le norme di sicurezza, tutto qua. Dottor Quartz, invece, per i pazienti cardiopatici, insomma, vista anche l'impossibilità quasi del tutto a muoversi, se non nell'arco dei 200 famosi ormai famigerati 200 metri da casa. No, per quanto riguarda i famigerati 200 metri da casa, io consiglio ai miei pazienti ovviamente di poter usufruire di questa possibilità e quindi di uscire davanti a casa a prendere un po' di aria. Per quanto riguarda invece il punto di vista del lavoro e quindi anche clinico, io direi ai pazienti che non devono essere trascurati i sintomi e che quindi, qualora avessero dei sintomi cardiologici, assolutamente devono mettere in allarme dapprima il medico di medicina generale che a sua volta dedicherà e deciderà di utilizzare dei percorsi per questi pazienti che possono essere sia in ambito ospedaliero che in ambito territoriale. Ovviamente il territorio in questo momento la fa da padrone, territorio inteso come medico di medicina generale e specialisti che operano in ambito territoriale per evitare appunto di sovraccaricare la struttura ospedaliera. E mi auguro che i politici si assumano al più presto delle responsabilità perché appunto si riapra non soltanto per questioni di natura puramente medica ma anche economica. Grazie a entrambi, la vostra testimonianza ritengo sia stata davvero utile in questo momento che insomma un po' tutti stiamo vivendo con tanti dubbi intorno a noi quindi avete dato anche dei consigli utili a chi ci ascolta. Grazie e buon lavoro a entrambi. Arrivederci, ciao. Grazie, arrivederci.